Carissimi, è una giornata abbastanza pesante perché le notizie che arrivano dall'Ucraina sono pessime, non sono notizie molto confortanti. Tra l'altro Putin oggi dovrebbe presenziare un'esercitazione che prevede il lancio di missili a testata nucleare, come ci ha abituato a fare l'altro fenomeno coreano, in questo momento mi sfugge il nome, quindi c'è molta preoccupazione, è arrivata anche la notizia della morte di un soldato ucraino. Ci auguriamo tutti che la diplomazia internazionale possa fare il miracolo, anche se Joe Biden insiste troppo sul fatto che è certo che la Russia invaderà l'Ucraina, quindi continuo a ripetere come un mantra, forse per aumentare poi le responsabilità da livello diplomatico a livello politico, per mettere proprio il carico da 11 sulle eventuali responsabilità della Russia, quindi nei prossimi giorni assisteremo a quello che succederà, ma c'è una preoccupazione questa volta molto molto alta, auguriamoci insomma che qualcuno possa rinsavire. E torniamo, questa è un'introduzione doverosa perché da stamattina che ricevo veramente messaggi preoccupati un po' da tutti perché tutte le notizie sono di matrice negativa per quello che sta succedendo nel Donbass, anche una situazione che a livello geopolitico non è che sia proprio facile poi ricostruire Donets, filorussi, controrussi, è bella complessa la storia, ma in realtà dietro ci sono i grandi interessi economici come sapete del famoso gasdotto e di tutta la ricchezza che ne consegue. Chiusa questa parentesi, riproviamo a parlare di caccio con questo clima molto pesante perché chiaramente si esce da una pandemia, è durato due anni, vogliamo infilarci una guerra, ovviamente io sono basito. E andiamo a parlare di questo Roma-Verona, un Roma-Verona che è nato sotto auspici pessimi, pessimi perché purtroppo è una partita chiave, una partita spartiacque di questa stagione e sta diventando un grande trappolone per Mourinho che già arriva dalla prova opaca di Sassuolo, purtroppo affronterà questa partita con gravi problemi di formazione, come sapete Gianniolo ha un problema al quadricipite femorale, mi pare che sia, un problema muscolare, non farà 90 minuti sicuramente, sarà in condizioni limitate, dovrà stare attento anche a non infortunare, non si sa ancora se giocherà, sinceramente io non credo che partirà dal primo minuto, per quello che è anche questo giocatore per la Roma, un patrimonio della società e poi anche il fatto che viene da due anni di infortunio. Purtroppo sapete che nella Rosa sono emersi anche delle positività al Covid che capiremo meglio starà facendo in questi giorni, Mancini è squalificato, Ibagna e il Sharawi sono infortunati come Shomurodov, i problemi sono tanti, sono tanti e mancherà per infortunio anche Carles Perez, infortunati naturalmente Spinazzola neanche ve lo ricordo più, c'è anche Boer, il portiere giovane, il portiere Boer che è infortunato, Mourinho in panchina porterà gente come per farvi capire, Bove, Mastrantonio, Missori, Keramitzis, Perston, Welkerling, gente della primavera, la situazione è pessima, la Roma dovrebbe andare in campo, secondo me diciamo la squadra potrebbe essere, come vedo le cose io, poi 4-2-3-1, lui Patricio, Metranice, Mollin, Cristante e Vigna, alcuni dicono Cumbulla al posto di Cristante, ma io Cumbulla sinceramente, che tra l'altro viene poco dal Verona, ci credo poco, comunque Cumbulla, Cristante, Veretusa e Gioliveira, Felix, Pellegrini, poi si deve inventare qualcosa, forse sarà avanzato Veretuno, lo so, qua la vedo proprio incasinata sta formazione, Ebram, oppure 3-5-2 con Ebram e Felix davanti, ecco, forse il 3-5-2, si deve inventare qualcosa, ma, oppure si potrebbe fare Maitland, Smollin, Cumbulla, Vigna, con 5 centrocampisti, Veretuno, Oliveira, Pellegrini, Cristante, con Vigna avanzato, insomma un casino ragazzi, come vedete è un pastrocchio, c'è anche Cardop, se potrebbe giocare, o forse si potrebbe inserire Cardop, ma Cardop viene da una partita disastrosa, è un rebus la formazione della Roma, l'unica cosa chiara è che giocherà Felix, questo giocherà Felix, insieme a Ebram, perché molto probabilmente Zagnolo sarà a mezzo servizio, se giocherà, quindi la partita, vi ricordo, è invalida per la 26esima di Serie A, si giocherà alle ore 18 del 19 febbraio, gara visibile su Dazzon, si ipotizzava un turno di riposo per Cardop, ma a questo punto ci sono dei dubbi anche su questo, ovviamente, il Verona, come sapete è il quarto attacco del campionato, viene dal brillante 4 a 0 nel debito del Triveneto con l'Udinese, si trova a meno 4 punti dalla Roma, è lì il Verona ragazzi, c'è un dato statistico che a me dovrebbe incoraggiarmi, invece mi fa molta paura, la Roma non perde in cata col Verona dal 1973, ma in casa per modo di dire, perché in realtà quella partita si giocò sul campo neutro di Arezzo, allora voi direte, e beh, non ci perdiamo mai col Verona, è proprio quello il problema, che prima o poi ne perderemo una, questo Verona qua è un Verona forte, ve lo dico perché conosco bene questa squadra, gioca bene, la squadra tossa, ripartenza in velocità, c'ha davanti giocatori molto infidiosi, Caprari, Barac, Simeone, dei cagagazzi di primo ordine, all'andata è finita come sapete 3 a 2, avvento il Verona, ha passato in vantaggio la Roma con un bellissimo colpo di tacco di Pellegrini, poi vanificato, poi c'è stato il gol decisivo, alla fine è risultato quello di Faraoni, abitrerà Roma-Verona il signor Pairetto di Michelino con il guardaline Paganessi e Rossi, 4 uomo Volpi, Alvar Manganiello, assistente Alvar Zufferli, sappiamo che questi nomi sono diventati importantissimi perché sono sempre di più le partite che non sono decise proprio dagli assistenti Alvar, le quote secondo i bookmakers sono già molto indicative sulla difficoltà di questa partita, 2-0-5 la vittoria della Roma, ma 3-50 il pareggio e 3-50 anche la vittoria del Verona che quindi non è certo vista come... io non è che vorrei portare sfiga, non è che vorrei portare sfiga, vi ricordo che poi il 27 febbraio c'è Spezia Roma, il 5 marzo Roma-Atalanta, il 13 marzo Udinese-Roma, il 20 marzo Roma-Lazio che forse sarà spostata, sono già 6.000 i biglietti venduti per Roma-Lazio, siamo ancora a febbraio manca un mese, il 3 aprile Sampdoria-Roma e il 10 aprile Roma-Salernitana, questa è la situazione il Verona si dovrebbe schierare con il 3-4-2-1 con l'allenatore Igor Tudor, ex Juve, Montipò sta andando benissimo questo quartiere quest'anno, Ceccherini-Gunter-Casale, Faraone-Tamezze-Ilik-Lazzovic Barak-Caprari-Simeone, questa è la squadra, indisponibili sono Pandur-Davidovic, forse anche veloso e Frabotta, Frabotta di provenienza a Juventus, un gioratore nel quale credeva molto Pirlo, che fosse invece perso per strada, nessuno squalificato nel Verona, la Roma 12 vittorie, 4 pareggi, 9 sconfitte, 40 punti su 25 partite, 42 reti fatte, 30 subite nelle ultime 5 gare, 2 pareggi, 2 vittorie, 1 sconfitta. Il Verona ha 10 vittorie, 6 pareggi, 9 sconfitte, 9 sconfitte come la Roma, quindi per dire a che livello siamo, 36 punti, 47 gol fatti, segna più della Roma, prende però più gol, ne ha presi 40, ne ha presi 10 in più. Nelle ultime 5 gare, 3 vittorie e 2 sconfitte. Che partita sarà? Sarà la partita che purtroppo non ci piace, cioè loro tutti chiusi dietro, quindi molto bloccata e pronti a ripartire, attenzione a non perdere palla sulla 3 quarti, questi partono in velocità e fanno paura, abbiamo visto anche all'andata come giocano e purtroppo, ripeto, è una partita trappolone questa qua, perché è una partita dove c'hai solo da perdere, se batti il Verona alla fine, che cosa c'è, che te ne uno batte pure le mani, cioè ti dicono, si vabbè, è diventata complicata anche per tutti questi infortunati, queste defezioni, però uno, come ho sempre detto io, si chiede ma Borgia Maioral doveva essere mandato via, questo giocatore a me sembra che ha segnato un sacco di gol, in panchina ci poteva stare molto bene, ma a me sembra che fosse molto meglio di Felix, ecco, per andare proprio al cuore della questione, dice ma poteva convivere con Ebram, ma Ebram a me non si può fare tutte le partite da qua fino a maggio-giugno, ragazzi, ci sarà un momento che sarà un calo di rendimento, ti prenderà qualche squalifica, speriamo che non si infortuni, ma se non gioca Ebram a sta prima punta chi la fa, fatemi capire, Shomulodon, ma a me Shomulodon mi sembra proprio che abbia dato le giuste garanzie, tra l'altro c'è El Sharawi che quest'anno ha troppi infortuni, anche questo giocatore che ormai ha i suoi anni, ci sta un po' mollando dal punto di vista fisico, è una cosa che non va bene perché noi abbiamo bisogno di gente, El Sharawi è un buon giocatore, ma io non so, vedo che è un giocatore che in stagione alla fine gioca poco, e spesso si infortuna, ma comunque gioca poco, cioè questo è un giocatore che o c'è se crede che deve fare 25 partite, sennò è inutile avere poi questi giocatori in rosa, capito? Dice il mio pronostico, impronosticabile 1x2, ci sono youtuber, per esempio Johnny Roma, che sono abbastanza pessimisti su questa partita, ma non è certamente il solo, c'è molta preoccupazione, perché la panchina non è che sia proprio solida, tutti diciamo sì, siamo con Mourinho, eccetera eccetera, però in realtà non è che vada molto bene la situazione, quindi battere il Verona oggi era importante, cioè domani, scusate, sarebbe molto importante, purtroppo le difficoltà ci sono, ecco, io mi auguro che Ebra, ma il giocatore che in questo momento si deve prendere proprio la squadra sulle spalle, sblocchi questa partita, in modo che ci si possa mettere questa gara sul binario che ci è più congeniale, cioè cercare di coprirci bene e poi sfruttare questa velocità di qualche elemento, perché a me la Roma quando deve attaccare frontalmente non mi sembra proprio che il gioco nostro sia, noi siamo bravi ad andare negli spazi e tra l'altro mi pare di aver capito quindi che Mkhitaryan non giocherà e in questa partita qua Mkhitaryan è veramente fondamentale secondo me, anche se quest'anno non è che sia giocato molto bene. Che dire ragazzi, la situazione è questa, speriamo che non dilaghi ulteriormente la situazione covid, molto probabilmente nella ripresa vedremo anche qualche giovane della primavera in campo, buon Roma-Verona a tutti, non sono molto ottimista, questo sinceramente ve lo dico, ritengo che battere questa squadra domani sarebbe un ottimo risultato in queste condizioni perché abbiamo quattro punti in più ragazzi, una cosa che pure devo dire dopo il pareggio tra Juventus e Torino di ieri è che dispiace avere buttato via questi punti contro la Juventus soprattutto nella gara in cata ma anche in trasferta perché quest'anno la Juventus è veramente ai minimi termini e nonostante tutto è ancora quarta, si poteva veramente, potevamo essere molto vicini alla Juventus, molto molto molto, siamo dietro alla squadra che quest'anno ha tantissimi problemi, è un peccato. Allora buon Roma-Verona a tutti e alla prossima puntata